Vuoi rimuovere la condensa sui vetri, sugli specchi di casa? Questo rimedio della nonna è semplicissimo ed economico, avrai bisogno solo di un prodotto e si trova nel tuo bagno. Sigla! Ciao lettori elettrici di MammaStyle e benvenuti in un nuovo video! Uno dei luoghi in cui infatti si crea maggiormente condensa, in particolar modo su superfici vetrate di specchi e finestre, è proprio il bagno. Inoltre la presenza di condensa favorisce la formazione di muffa e di umidità. C'è però un trucchetto semplicissimo che adesso vi svelerò e vi lascerà a bocca aperta. Infatti avremo bisogno solo di schiuma da barba. Con le mani stendiamo la schiuma da barba senza esagerare su tutta la superficie e dopo averla stesa rimuoviamola con un panno morbido oppure dei fazzoletti usa e getta. L'operazione di rimozione della schiuma potrebbe richiedere qualche minuto in più, basterà munirsi solo di un po' di pazienza e verrà via. Un po' di pazienza Un po' di pazienza Un po' di pazienza